E sì, a Lavellino dunque bastava un pareggio per conquistare lo spareggio salvezza. A Liberacchia è arrivata addirittura la vittoria, per la felicità dei circa mille tifosi arrivati fin qui in Umbria. Hanno scioperato invece, come dicevi tu da studio, i sostenitori della Ternana, che per tutta la settimana hanno contestato la società rosso-verde. Sugli spalti solo molti striscioni al veleno, ma vediamo subito le immagini di un successo decisamente meritato. Lavellino è più motivato naturalmente e con Budiaschi si affaccia per la prima volta dalla parte di Paoloni. La replica della Ternana è affidata a Corvia, due gol nelle ultime tre partite. Al 34esimo Lavellino passa, sussi per Dani Levicius, assist di tacco e botta rabbiosa di Rastelli, 1-0. Davvero un bel gol, un gran bel gol questo di Rastelli, che stiamo per rivedere l'assist di tacco di Dani Levicius e la botta per Entoria che supera Paoloni. La gioia, come dicevamo, dei tanti tifosi irpini. Il raddoppio della squadra dell'Avellino allo scadere del primo tempo, anche in questo caso è splendida la deviazione di Millesi. Paoloni è battuto, la gioia contenuta di Colombo, il gol come detto di Millesi. Nella ripresa il ritmo è molto basso, fa caldo e l'Avellino non rischia quasi mai. Ci provano da lontano Corvia e Russo per la Ternana, ma senza fortuna. L'Avellino invece potrebbe anche realizzare il tris. Stavolta è bravissimo Paoloni sulla conclusione ravvicinata di Vicari. Ancora Ternana nel finale di gara con il giovane Corvia. Ecco che va via sulla destra il numero 11 e la conclusione che colpisce il palo. Non è davvero stagione per la squadra Umbra, sprofondata. Già domenica sforza in Serie C. E adesso per l'Avellino di Franco Colomba comincia la settimana più bollente, quella che porterà allo spareggio contro l'Albinole F di Emiliano Mondonico. E' tutto dalla Liberati, linea allo studio a Franco Lauro. Grazie dottorello Brughini.